Dramma della solitudine in città a Lecce, dove nel pomeriggio è stata ritrovata senza vita una donna di 90 anni all'interno della sua abitazione. Da giorni non si avevano più sue notizie e a temere che potesse essere accaduto qualcosa sono stati alcuni vicini di casa, che in vano tentavano di contattarla, ma lei non rispondeva nemmeno al citofono. Da qui la decisione di avvisare l'amministratore del condominio, che a sua volta ha contattato la polizia. Sul posto, in via Gabriele D'Annunzio, nel quartiere Santa Rosa a Lecce, è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco, unitamente ad un supporto con autoscala. Una volta entrati nell'appartamento, l'attrice scoperta. L'anziana era purtroppo deceduta. Il personale del 118 intervenuto sul posto ne ha constatato il decesso, che, come se non bastasse, sarebbe avvenuto qualche giorno fa.